Come sviluppo e contributo al tema dell'internazionalizzazione, dal corso di laurea in filosofia della Scuola di Scienze Sociali, Arti e Umanistiche del focus group di ricerca ETHOS, associato al gruppo di ricerca Cybercultura e Territorio dell'Università Nazionale Aperta e a Distanza. Presentiamo uno spazio in cui invitiamo docenti di varie nazionalità a partecipare a questo spazio affinché possano condividere con noi parte dello sviluppo della loro ricerca. Grazie per la visione! Da questo spazio ETHOS in Frontera vi salutiamo cordialmente e vi invitiamo ad ascoltare il nostro argomento di oggi, l'idea di libertà e democrazia in Anna Arendt. E per sviluppare questo argomento oggi invitiamo la dottoressa Letizia Konderak e il dottore Gianluigi Tsegalerba. Anche Margarita Rosa De Francesco ci accompagna come intervistatrice. ai nostri ospiti di oggi, che ho avuto il piacere di intervistare in precedenza, voglio presentarvi la persona che sboglierà gran parte della nostra intervista. Questa è Margarita Rosa De Francesco, una delle attrici più importanti dell'Arcolombia per la sua partecipazione al cinema e alla televisione e per di più recentemente è stata premiata alla mostra del cinema di Venezia come migliore attrice nella sessione Orizonti. Margarita sta attualmente terminando i suoi studi di filosofia presso l'UNAT. Molto bene, iniziamo presentando parte dei curriculum dei nostri ospiti. La dottoressa Letizia Konderak ha un dottorato di ricerca in filosofia presso l'Università di Bari Aldomoro in Italia. È un professionista della filosofia e professore nella stessa università. È anche specialista in scienze filosofiche presso l'Università di Bari Aldomoro e infatti che ha sviluppato una tessi che ha molto a che fare con l'argomento che affrontiamo oggi in questo panel. Tessi esperimentali, dominio sulla vita e libertà di azioni. Anna Arendt tra Agamben e Ranciari. La dottoressa Letizia è anche autrice di diversi articoli sul argomento e di un libro dedicato allo studio dell'opera di Anna Arendt. La dottoressa Konderak è attualmente professore presso l'Università di Bari Aldomoro e ho lavorato anche presso il Centro di Studi Avanzati Europa Sudorientale dell'Università di Rieca. Dal canto suo, il dottore Gianluigi Segalerba è laureato in filosofia dell'Università di Pisa, Italia. Dottore in filosofia sempre presso l'Università di Prisa. Ha insegnato all'Università di Tübinga in Germania e presso l'Università di Berna in Suissera e Viena in Austria. È autore di quasi 50 articoli accademici e più di una docena di libri legati alla filosofia. Il dottore Segalerba ha anche studi e prodottorato presso l'Università di Viena in Austria e l'Università di Berna in Suissera. Il dottore Segalerba è attualmente ricercatrice e professore presso l'Istituto di Studi Filosofici dell'Università di Coimbra. Ebbene, dottoressa Conderac e dottoressa Segalerba, grazie mille per la vostra partecipazione a questo panel. Vi do il benvenuto e vi lascio nelle mani della nostra intervistatrice, Margarita Rosa di Francesca. Grazie professore Tyron, buon pomeriggio, dottoressa Conderac e dottoressa Segalerba. È un piacere, un onore per me salutarvi e condividere questo momento con voi. Mi chiamo Margarita e sono una studentessa di filosofia, allieva del professor Tyron. Quando parliamo di libertà, secondo Anna Arendt, dobbiamo necessariamente distinguere due tipi di libertà. La libertà politica e la libertà esistenziale. Due concetti che sono legati da un lato dal suo approccio all'azione e dall'altro dalla pluralità degli esseri umani. Potreste parlarci di questo argomento? Sì, non so chi può cominciare per primo. Comincio io per prima, grazie. Grazie per l'invito molto gradito a questo panel. Allora sì, comincio a rispondere a questa domanda. Effettivamente questi due concetti di libertà, la libertà esistenziale e la libertà politica, sono strettamente connessi nella riflessione arentiana. Per libertà esistenziale intendo la libertà in senso esistenzialista, cioè la libertà di cui parlavano ad esempio gli esistenzialisti, a partire per esempio da Sartre, che aveva affermato che gli esseri umani sono condannati ad essere liberi. La libertà non è la possibilità di optare per qualsiasi strada a disposizione, la libertà non è un libero gioco dello spirito, ma è piuttosto ciò a cui gli esseri umani sono condannati, dovendo far fronte comunque e dovendosi scontrare naturalmente con i condizionamenti rappresentati dagli altri e dal mondo in cui si agisce. Ora, Anna Arendt è influenzata da questo concetto di libertà e in qualche modo si potrebbe dire che la sua idea di libertà politica è esattamente la modalità in cui ella concepisce, concretizza politicamente effettivamente il suo concetto di libertà esistenzialista. In particolare, la politica è in effetti per Anna Arendt il luogo all'interno del quale gli esseri umani agiscono liberamente, ma nello stesso tempo sono massimamente condizionati. Infatti, come sostiene Anna Arendt, la politica è quella sfera all'interno della quale siamo al contempo massimamente liberi e al contempo massimamente condizionati. Questo perché le azioni che gli individui cominciano devono necessariamente consegnarsi agli altri, per il loro significato, ma anche per l'intreccio d'azioni che dagli altri è già cominciato. L'azione, dunque, sfugge dalle mani di colui che l'ha cominciata per consegnarsi agli altri e assumere così spesso un significato completamente diverso a conclusione, un risultato che è, peraltro, irreversibile ed imprevedibile. Dunque, la libertà esistenzialista si concretizza nella sfera politica per Anna Arendt. Molto bene. Queste due forme di libertà che lei menziona sono ovviamente diverse, ma molto interconnesse. Tuttavia, Anna Arendt, oltre alla distinzione tra libertà politica e libertà esistenziale, ha sviluppato altri concetti sulla libertà che si concentrano sull'azione, sulla pluralità e sulla capacità di iniziare qualcosa di nuovo. La libertà come fenomeno di virtuosismo politico e l'idea di libertà come pluralità. Cosa potreste dirci al riguardo? Allora, sì, certo, queste plurali definizioni della libertà, a mio avviso, sono molto importanti nella riflessione rentiana perché ci danno la misura di come l'autrice cerchi di offrire una nuova concezione della libertà, una concezione che osserve in qualche modo la libertà dal punto di vista del mondo. Per questo motivo Arendt diffida delle concezioni tradizionali della libertà come libero arbitrio. Il libero arbitrio, infatti, consiste nella possibilità di optare per una strada piuttosto che per un'altra, dunque di scegliere un'opzione piuttosto che l'altra. In questo senso il libero arbitrio, e quindi la libertà, si riduce ad una realtà meramente intrapsichica, introvabile nel mondo. E inoltre, da un punto di vista esistenziale, gli esseri umani rischiano di essere condannati all'oscillazione continua tra le opzioni, che è un esito anche di quella definizione della vita interiore, del pensiero, come appunto dialogo interiore tra sé e se stessi che aveva fornito Platone. Dunque le opzioni contrastanti, alternative, tra le quali il libero arbitrio si destreggia, rischiano di condannare gli esseri umani a non poter decidere tra l'una e l'altra. A questa idea di spontaneità, di libertà, Arendt contrappone il concetto della spontaneità in matrice kantiana. Un concetto che sostanzialmente definisce la libertà come la capacità di avviare una serie di, una concatenazione del tutto nuova di azioni, una serie di azioni che non era prevedibile né tantomeno determinata qualora appunto quell'individuo non avesse agito. Essa è dunque una realtà mondana e si intreccia, come lei giustamente appunto suggeriva, soprattutto al concetto di libertà come virtù e virtuosismo e poi alla pluralità. La spontaneità è virtuosismo perché lo scopo dell'agire politico, dell'azione nella sfera pubblica è semplicemente l'esibizione della grandezza, quindi si riduce all'esibizione della grandezza degli atti pubblici, degli atti in pubblico, quindi di fronte agli altri. Ed essa è virtuosismo nel senso più prettamente machiavelliano del termine. Essa è cioè virtuosismo nel senso che essa deve barcamenarsi tra gli avvenimenti, tra gli intrecci di azioni, gli antrecci di avvenimenti già cominciati. Dunque, in un duplice senso, la libertà come virtuosismo si connette alla pluralità. Da un lato perché gli altri sono gli spettatori della grandezza delle azioni individuali. Dall'altro perché la virtu, intesa appunto come capacità di barcamenarsi tra le vicende, appunto tra ciò che accade nel mondo, quindi nel rispetto alla sorte, implica necessariamente che appunto questa libertà si inserisce nella rete costituita dalla pluralità altrui, quindi dalle azioni che gli altri hanno già avviato. Quindi virtuosismo, libertà come spontaneità, come virtuosismo e come appunto intreccio alla pluralità altrui si connettono appunto molto strettamente. Bene, e questa domanda è allora per il dottore Segalerba. Secondo Arendt, la libertà politica si manifesta attraverso l'esercizio dei diritti umani e la capacità di prendere decisioni collettive, un'idea che possiamo mettere in relazione con il concetto di democrazia. Come possiamo affrontare l'idea di libertà legata alla democrazia? Sì, grazie infinite per la domanda, ma direi si possono dare differenti interpretazioni per questa questione. Per un lato democrazia è per così dire lo spazio aperto, cioè è qualcosa che contraddistingue completamente e che naturalmente agevola l'azione e il discorso degli individui. È assenza dei tentativi che noi possiamo sempre vedere quando Arendt analizza la storia del totalitarismo, l'analisi del totalitarismo, l'assenza dei tentativi da parte degli stati totalitari di eliminare contingenze e di presentare tutto come una legge necessaria. La democrazia è uno spazio aperto, uno spazio aperto in cui l'individuo ha diritto a parlare, in cui tutti hanno diritto a parlare, in cui l'individuo ascolta gli altri, espone le proprie teorie, ascolta le interpretazioni degli altri e in questo modo riesce ad uscire dalla dimensione, diciamo così, limitata della propria esperienza. Cioè democrazia è la base necessaria e indispensabile affinché vi sia libertà. Possiamo probabilmente comprendere questo meglio se vediamo quello che fa uno stato totalitario. Che cosa fa uno stato totalitario? Imposta un regime di terrore in virtù del quale tutti gli individui hanno paura a parlare, in virtù del quale gli individui vengono massificati, vengono atomizzati, vengono separati gli uni dagli altri, in cui non possono più dialogare, non possono più agire. Cosa fa poi uno stato totalitario anche? Cerca di presentare le proprie iniziative non come qualcosa di contingente, ma come qualcosa di assolutamente necessario, come qualcosa di legato alla necessità naturale o a una necessità storica, a una necessità del processo storico. Cosa può fare l'individuo di fronte a questo? Niente, deve accettare, deve obbedire e deve subire passivamente tutto quello che uno stato totalitario fa. Che cos'è invece la democrazia? La democrazia è... è, diciamo così, quello che assicura il regno della contingenza, contingenza nel senso positivo, cioè dell'apertura, della novità, della spontaneità, tutto quello che invece uno stato totalitario vuole abolire, apertura, spontaneità e novità. E la democrazia in questo senso è proprio attraverso l'assicurazione del regime di contingenza, contingenza appunto in senso positivo, lo spazio aperto, lo spazio in cui tutti gli individui possono dire la propria opinione, ascoltare l'opinione degli altri e interagire, essere finalmente nella dimensione infra, cioè dell'essere nella dimensione plurale, collettiva. Abbandonare pertanto la dimensione che sia nel labor, sia nel work, in un certo senso li potrebbe costringere una dimensione solamente individuale. Direi che questa potrebbe essere una prima risposta. Il diritto alla libera espressione, secondo Anna Arendt, è inquadrato nella sua connessione della politica. La libertà di espressione è fondamentale per gli esseri umani, ma lei critica anche la nozione dei diritti umani. Cosa pensate in merito a questo? Sì, questo è un discorso estremamente complesso naturalmente, che l'Arendt affronta diversi testi, diciamo, e è un lungo capitolo molto articolato nelle origini del totalitarismo. I diritti umani, l'Arendt analizza la questione dei diritti umani in relazione alla crisi che i diritti umani e che la promozione e la protezione dei diritti umani hanno avuto a seguito degli sconquassi avvenuti a seguito della prima guerra mondiale. Cioè, nel momento in cui determinate autorità politiche che erano valse fino alla fine della prima guerra mondiale spariscono, spariscono anche determinate autorità politiche che proteggevano determinati diritti naturali e diritti umani degli individui. Cioè, assistiamo anzitutto alla formazione di una classe di apolidi a cui non viene riconosciuto nessun diritto da parte di nessuna nazione e che si trovano, pertanto, completamente abbandonati a se stessi, quasi in un ritorno in uno stato di natura, in primo luogo. In secondo luogo, attraverso una trasformazione dello stato nazionale in uno stato ideologico, in uno stato fondamentalmente volto a privilegiare determinate componenti etniche, vediamo che una componente etnica all'interno di determinati stati viene privilegiata e tutte le altre componenti minoritarie vengono invece in qualche modo svantaggiate. Quindi assistiamo, diciamo così, alla fine della prima guerra mondiale a questi due fenomeni. Primo, la formazione di apolidi che non hanno nessun diritto e a cui non viene riconosciuto nessun diritto da parte degli stati e per i quali manca una autorità sopra statale che possa proteggerli. Pertanto si trovano davvero in uno stato di natura nei confronti degli stati che li ospitano, in primo luogo. In secondo luogo, attraverso questa nuova affermazione di uno stato ideologico, ideologicamente etnico, troviamo il privilegio di determinate componenti etniche e dall'altra parte invece gli svantaggi per altri componenti che provoca naturalmente negli stati una condizione di contrasto fra le varie componenti della popolazione. direi che questa potrebbe essere una prima risposta. Dottoressa, Anna Arendt cerca di conciliare la natura del potere con la libertà individuale attraverso la distinzione tra potere e forza. Sulla base di questa affermazione è possibile conciliare la natura del potere con la libertà individuale? Certo, è una domanda molto importante perché in effetti il concetto arentiano di potere è un concetto centrale nella sua riflessione politica perché la concezione arentiana del potere è molto distante da ciò che noi tradizionalmente o comunque comunemente intendiamo per potere. Il potere in effetti per Anna Arendt si distingue radicalmente dalla forza. Potere consiste infatti nella capacità di agire assieme, di mettersi assieme tra uomini per cominciare qualcosa di nuovo, tra esseri umani per cominciare qualcosa di nuovo. La forza è invece una proprietà di un'entità individuale. Quindi è opportuno notare che per Anna Arendt la forza non è in grado di far fronte al potere. Il potere quando appunto messo in atto, come potenzialità messa in atto appunto da un insieme di uomini, è sempre capace di far fronte alla forza. Però è opportuno anche sottolineare altri due aspetti della questione e cioè Anna Arendt sostanzialmente esclude che il potere sia unidirezionale, consista sostanzialmente nel perseguire tutti assieme un medesimo scopo. Possiamo a tal proposito utilizzare l'immagine dell'Eviatano, quindi l'immagine presente sulla copertina appunto del famoso testo di Hobbes, in cui il sovrano, rappresentato da un grande uomo, è composto da tanti piccoli uomini. Agire non significa questo, non significa riunificarsi come appunto la forza di tutti i singoli convergesse nel creare un grande individuo che agisce. Questa sarebbe appunto ancora forza o se non addirittura violenza per Arendt. Il potere invece conserva la pluralità al proprio interno e la libertà dei singoli. Quindi sostanzialmente potere non significa tendere insieme ad uno stesso scopo, ma intrecciare le libertà in maniera comunque sempre aperta, in modo tale che essa rimanga sempre aperta comunque all'iniziativa individuale, alla spontaneità, alle spontaneità che si intrecciano. Dunque ancora una volta anche il potere include questa idea limitata, condizionata di libertà, la libertà esistenzialista di cui avevamo parlato, e dunque ne fa una realtà mondana sempre limitata e aperta al nuovo. Professore Segalderba, Anna Arendt affronta il rapporto tra libertà, autoritarismo e totalitarismo nel suo lavoro. Potremmo affrontare l'idea di libertà riguardo all'autoritarismo e al totalitarismo del quale parla? Senza dubbio, grazie della domanda. Il tema è anche questo molto complesso. Direi un primo punto che possiamo vedere è che vi può essere una prevenzione contro l'instaurazione di autoritarismo e soprattutto di totalitarismo attraverso la partecipazione, attraverso la partecipazione democratica. Uno dei pericoli che la Arendt individua in diversi suoi scritti è quello del ritiro, anche soltanto parziale o totale, dell'individuo rispetto alla sfera politica. Cioè quando l'individuo dice non mi interessa, oppure quando l'individuo considera la politica come una dimensione che comunque non è fine a se stessa ma serve a qualcos'altro. Quando si ha una svalutazione della politica, della dimensione politica, della dimensione anche intersoggettiva, di per sé stessa quando si assiste a questa svalutazione si è già in uno stato di rischio, si è già, come si potrebbe dire, esposti a rischio che si impongano soluzioni autoritarie o anche totalitarie. Quindi un primo strumento per evitare l'installazione di autoritarismo e totalitarismo è senz'altro quello della partecipazione democratica e dell'assicurazione della partecipazione democratica dei cittadini, della partecipazione alla vita pubblica. Un altro aspetto che secondo me conviene mettere in luce è l'essere, la costituzione della società, cioè ci troviamo di fronte a una società con classi o senza classi? Una società con classi è una società che sa reagire meglio e che comunque sa difendersi meglio rispetto al pericolo dell'autoritarismo e del totalitarismo. Una società invece che piano piano o completamente è massificata, una società di massa, è una società che invece è esposta, direttamente esposta sia all'installazione di autoritarismo sia alla ristarazione del totalitarismo. Questo perché? Perché una società con classi è una società in cui vi sono diversi gruppi che partecipano all'attività politica, che sono uniti da determinati interessi, che sono uniti da determinati obiettivi e anche da determinati propositi. Cioè ci troviamo di fronte a una società articolata in cui vi è scambio di idee, vi è partecipazione alla cosa pubblica, alla vita pubblica e via dicendo. Una società di massa è una società completamente atomizzata, una società in cui l'individuo non ha interessi specifici, in cui l'individuo non è unito ad altri gruppi, non fa parte e non partecipa e pertanto può essere utilizzato da un'autorità superiore per finire l'autorità superiore medesima, cioè non ha una forma di difesa, non ha un corpo intermedio a cui fare riferimento nel caso venga usato da un'autorità. Pertanto direi questi sono i punti, cioè da una parte l'assicurazione della partecipazione rispetto alla vita politica e dall'altra l'attenzione a che una società di classi non si trasformi poco a poco in una società di massa, perché una società di massa è sicuramente esposta al pericolo dell'autoritarismo e del totalitarismo, credo che questa potrebbe essere una prima risposta al problema. Grazie. Professoressa, la prospettiva di Hannah Arendt sulla libertà concilia o differisce nel quadro di un mondo capitalista e qual è la posizione politica di Hannah Arendt riguardo al comunismo? Allora sì, la concezione arentiana del capitalismo, o meglio l'analisi appunto di una società che appunto noi potremmo definire capitalista, non è Rosia per quanto concerne la possibilità che in essa la libertà permanga. In effetti secondo Hannah Arendt il capitalismo è una forma di governo che sostanzialmente tende a distruggere la libertà in maniera potremmo dire dolce, cioè attraverso un accrescimento, un miglioramento delle condizioni di vita, un accrescimento indefinito della produzione e quindi diciamo dei beni, quindi attraverso comunque un ottimo, un dolce stile di vita. Il capitalismo infatti tende a trasformare tutte le attività umane in lavoro, anche naturalmente la creatività dell'artista ad esempio o anche la libertà politica dell'uomo politico, che non a caso nell'ambito delle organizzazioni di tipo capitalistico diviene una professione e d'altro canto quindi fa sì che tutte le attività vengano svolte semplicemente per ottenere sostentamento, quindi per un salario e con l'obiettivo e soprattutto con il ritmo ripetitivo del lavoro. Dunque in maniera dolce potremmo dire il capitalismo raggiunge i medesimi scopi che si era preposto il totalitarismo, cioè quello di cancellare lo spazio della libertà politica soprattutto. Un giudizio simile può essere rinvenuto nella riflessione arentiana per quanto riguarda il comunismo e la riflette naturalmente soprattutto sull'esperienza sovietica e distingue tra la fase appunto più prettamente totalitaria di tale esperienza consistente appunto naturalmente nello stalinismo, ma per Anna Arendt il capitalismo e il comunismo sono accomunati sostanzialmente dall'attenzione esclusiva alla dimensione politica, alla dimensione scusatemi economica, quindi alla produzione indefinita, alla crescimento della ricchezza e alla crescimento naturalmente della produzione. Quindi nello stesso modo del capitalismo il comunismo cancella lo spazio per la libertà politica. Ben diverso è però il giudizio arentiano a proposito del lavoro, del movimento del lavoro, quindi del movimento operaio, che secondo l'autrice è stato in grado di riportare sulla scena pubblica, di riaprire la scena pubblica, cioè di collocare gli attori politici in essa e in particolare di portare gli operai sostanzialmente, quindi coloro che erano tradizionalmente esclusi da tale sfera in tale dimensione, e di ricreare a partire dal XVIII secolo quella forma di governo partecipativa che si è espressa in questo caso in particolare nei consigli operai, quindi in una forma proprio di partecipazione diretta alla politica. Quindi molto positivo è il giudizio di Arendt a proposito di questi movimenti. Bene, io ho una curiosità su questo. Secondo lei quale sarebbe la posizione di Anna Arendt riguardo al conflitto israeliano-palestinese? Professoressa o professori? Tutte e due? Sì, provo a rispondere a questa domanda. Ora, diciamo che potremmo immaginare quale potrebbe essere la risposta di Arendt a tal proposito, in particolare utilizzando alcuni scritti che ella redasse proprio a proposito della questione israelo-palestinese che già al suo tempo era effettivamente scoppiata. Arendt in particolare ipotizza che la soluzione a tale questione possa essere di tipo federale. Ella ritiene che in effetti ipotizzare la sussistenza di due stati di carattere nazionale peraltro, dunque con una connotazione per così dire etnica, se vogliamo, o anche etnico-religiosa, non può condurre ad alcuna soluzione del conflitto. Arendt ipotizza quindi che proprio in questa zona possa invece sperimentarsi la nascita di uno stato binazionale, di uno stato in cui sostanzialmente la partecipazione e il diritto di cittadinanza non siano vincolate dall'appartenenza ad una determinata etnia o ad una certa religione, come spesso accade nella riflessione arendtiana, quindi la soluzione è politica, in qualche modo è federale, appunto in questo caso. Credo che questa possa essere l'ipotesi di Arendt che naturalmente aveva molto a cuore la questione e soprattutto temeva comunque la moltiplicazione del numero di profughi dovuta comunque ai conflitti che esplodono appunto ovunque nel mondo. E cosa ne pensi, professore? Sì, in generale vi sono testi nei quali la Arendt parla della necessità per gli stati nazionali di procedere a forme di collaborazione più estesa, per cui se non vado errato in determinati testi propone la creazione di federazioni, se non altro come modello, per cui questo potrebbe, sarebbe stato probabilmente anche il modello che avrebbe preferito per la questione israeliana e palestinese, cioè pur essendo presente anche, mettiamo la presenza di due stati, comunque detti due stati avrebbero dovuto essere, diciamo così, incitati a una collaborazione reciproca e poi anche a una forma di federazione, proprio per evitare le crisi che si erano avute prima della prima guerra mondiale e poi tra le due guerre che erano state provocate anche da un'assenza di, o da un'assenza di federazione o da federazioni mal fatte come la Società delle Nazioni che l'Arendt critica più volte per le sue inefficienze e per alcuni difetti fondamentali. Quindi senz'altro sì, il modello federativo è un modello che l'Arendt avrebbe voluto vedere in generale e poi anche nello specifico, sì, senza dubbio sì. Va bene, grazie mille, è stato un onore per me condividere con voi. Grazie a voi per l'invito, grazie infinite, grazie, grazie a tutti. Ringrazio ancora voi per le domande molto interessanti e per l'invito naturalmente. Anna Arendt ha promosso l'idea che la democrazia e la libertà richiedono una partecipazione attiva ha sostenuto che l'azione politica e il dialogo nella sfera pubblica sono cruciali per raggiungere la vera libertà e mantenere la salute della democrazia. La sua eredità sopravvive nei discorsi sulla politica e sulla filosofia, soprattutto per quanto riguarda la teoria democratica e la centralità dell'azione politica nella vita collettiva. Ebbene, con questo ultimo intervento concludiamo questo interessante panel sulle idee di libertà e democrazia in Anna Arendt. Apprezzo molto la partecipazione di Margarita Rosa De Francisco con il suo compito di facilitare il panel. Ringrazio anche la dottoressa Konderak e il dottore Segalerba per i loro commenti ponderati e penetranti su questo argomento. Penso che tutti noi abbiamo imparato molto di più sui pensieri di quella donna meravigliosa che era Anna Arendt. E questo è tutto. Grazie mille a tutti e a presto. Grazie mille. Grazie infinita. Grazie ancora. Grazie infinita a tutti. Grazie. Grazie a tutti.